amici ci siamo quasi perché la Venice Marathon non si ferma allora ancora energia ancora sport ancora voglia di guardare al futuro con coraggio e propositività anche quest'anno io sosterrò seppur a distanza gli amici di Venice Marathon so che le virtual run stanno partendo vuol dire che la gente ancora voglia di correre di prestare le proprie gambe anche per gesti di solidarietà con le campagne legate alla Venice Marathon del charity program io mando un abbraccio grande agli amici di Venice Marathon nella speranza di poterci davvero riabbracciare e correre tutti insieme chi lo sa l'anno prossimo certamente questa edizione sarà un'edizione storica unica speciale e quindi insomma in bocca al lupo per domenica primo novembre si corre ancora tutti insieme a Venezia sperando di regalare un po' di energia positiva a tutti in bocca al lupo ragazzi un bacio da Giuseppe Versace